Un sarago, un esempio, che si alimenta di notte con la luna piena, di giorno sta intanto, viceversa... Ok, ok... ...lo troviamo. Quindi sicuramente focalizzarci sull'attenzione alimentare come questa viene influenzata dagli agenti esterni sembra essere una giusta chiave di lettura per avere una presenza del pesce diciamo quanto più regolare possibile nelle nostre uscite. Ti dicevo, in termini economici suppongo che conviene... Conviene se sei uno che va a mare tutti i giorni, perché ci sono le giornate che puoi guadagnare 500 euro e poi se te ne stai 4 giorni a letto non hai concluso niente. È un lavoro durissimo, duro, duro, penso che sia il lavoro più duro che esista al mondo, non è solo piacere, sembrerebbe così ma non è. Svegliarti la mattina all'alba col freddo che fa furi, pensare che devi fare magari 8 ore in acqua e che non prendi niente e poi torni a casa con la frustrazione magari di dire alla tua compagna oggi non ho preso niente. Eh, vedi questo è interessante come punto di vista, è avere la determinazione tu e della tua compagna di sopportare una nuova giornata ed un eventuale nuovo fallimento e poi magari al terzo o quarto giorno riesci a completare quel tuo obiettivo che so settimanale certo che deve essere particolare. Prima di continuare con il video volevo invitarti a iscriverti, poiché la gran parte di voi che segue questi video non è iscritta. Iscrivervi è un'incredibile forma di supporto per le attività che svolgiamo all'interno del canale di tutto. Da poco abbiamo realizzato un brand di pesca subacqua che si chiama MSA Controcorrente, un brand che gira attorno a noi pescatori subacquei. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare la stragrande maggioranza delle nostre forze sull'assistenza ai clienti e sul supporto a voi pescatori. Motivo per il quale abbiamo creato una community privata di nome MSA Controcorrente Community su WhatsApp dove potrai trovare supporto tecnico a 360 gradi, compagni di pesca e location in tutta Italia. Per accedere basta scriverci. Ciao Giuseppe, ce l'abbiamo fatta, come stai? Bene, bene, tu? A posto, a posto. È stata una giornata lunga, molto lunga. Stamattina mi sono svegliato, avevo un'altra puntata che ho registrato con Cinzia Cara, una pescatrice subacquea sarda. È stata veramente una chiamata interessante, abbiamo visto la pesca subacquea dal punto di vista, diciamo, femminile. Ridevamo molto rispetto al discorso sai. Diciamo, ogni volta le mogli rompono le palle che, capito, andiamo a pescare. Ma se tu sei la moglie, invece il marito te la rompe le palle ed è capitato. Ho visto che lei è anche molto campagnola, quindi credo che il suo compagno sia uguale a lei, diciamo. Sì, guarda, è stata veramente una chiamata molto interessante. Va funghi, va asparagi. Eh sì, sì. Non so se va alla caccia, ma... Ma ci hai fatto caso che funghi, asparagi o caccia o anche il serfo, comunque tutto quello che è natura, è molto comune a tutti i pescatori? O a quasi tutti? Sì, sì. Ma guarda, parlavamo con un amico, le similitudini che ci sono fra caccia e pesca, ci sono molte coincidenze, anche sulla terraferma, sulla, diciamo, sulla selvaggina. Abbiamo molte similitudini con la fauna. Sì, 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 assolutamente. A me attrae tantissimo la natura e il selvaggio. Comunque, partiamo da zero. Tu ti chiami Giuseppe Piras, pescatore sardo, ma quanti anni hai? Cominciamo da questo. Eh, io sono un grandicello, non so tu, ma io i miei 45 li ho fatti il 28 luglio. Eh, ok, io ne ho 30, 31, ma l'età è un numero forfettario, mettiamola così, non importa, importa quello che si fa. Bisogna sentirsi giovani dentro, dai. Giusto, 40 anni dopo, dico. Allora, Giuseppe, tu peschi in Sardegna, il tuo nome, io l'ho sentito molte volte, è una cosa che mi ha colpito particolarmente, motivo per il quale ho deciso di mettermi in contatto con te, che non è stato facile riuscire a organizzare, però ci sta, queste sono le cose belle che sono difficili da fare, mi ha colpito profondamente il tuo stile di pesca, ma mi ha colpito così profondamente che dovevo capire come si è arrivato a questo. E quando ci siamo sentiti per la prima volta, e mi è accennato che fai fatto da cameraman Giorgio D'Apiran, sì, ho cominciato a fare uno più uno. Partiamo dall'inizio, quando è che ti avvicina la pesca subacquea? Ma guarda, sostanzialmente la tendenza che hanno tutti i pescatori è dire otto anni, dieci anni, in realtà a quell'età puoi solo metterti la maschera e il boccaglio e finneggiare e osservare un po' il fondale, no? Io mi sono avvicinato alla pesca subacquea con un mio carissimo amico di Sassari, Nicola Donizio, a pescare all'agguato, in acqua bassa, diciamo. Ero già abbastanza grande cielo, avevo 17 anni. Quindi poi è nata questa forte passione e mi sono, ho voltato subito a pagina, mi sono dato la profondità. Ok. Mi sono innamorato di queste quote importanti, io ho sempre pescato in costante, fra i 25, 35, 37, senza l'ausilio del pionbo mobile che oggi va di moda. E quindi che cosa ho fatto? Ho intrapreso questa strada dello studio dei percorsi subacquei. Ok. E che cosa ho fatto? Sono andato a, diciamo, a studiare selezionando le varie specie ittiche. Ti faccio un esempio, ho fatto un anno dentici, un anno solo rate, un anno corvine, un anno solo i saraghi. E quindi, tendenzialmente, cercando solo quel tipo di preda, sono riuscito a capire tante cose. Cosa mangiano, perché, perché con quella corrente c'è più quella specie piuttosto che un'altra. E anche sono riuscito a capire che una specie ittica attrae l'altra. Ad esempio, dove ci sono le cerni, ci sono le corvine. Dove ci sono le corvine, ci sono i dentici. Quindi poi lì, devi capire un attimino se togliere la cernia o togliere le corvine o viceversa. Perché poi, o non trovi l'una, o non trovi l'altra. Ah, ok. Saranno domande che hanno risposte lunghissime. Però, così, in linea di massima, dammi una descrizione di queste intersecarsi, di queste specie. A che riguardo? Cosa vorresti sapere? Rispetto alla presenza di una o dell'altra. Ad esempio, quando io ho iniziato a cercare le cerni, innanzitutto le ho cercate in una zona dove un mio compagno di pesca non le riusciva a trovare. Diciamo che ci vuole anche un po' di sfrutto dalla superficie. Quindi, quando c'è l'acqua cristallina, magari verso settembre o ottobre da noi, andando sempre a pescare da terra, io facevo 7-8 ore di pesca a cercare in planata questi pesci e capire dove potevano essere. Quindi, cosa succedeva? A volte, magari incontravo un branco di corvine fuori dalla tana, facendo queste lunghe planate a cercare il pesce. Dicevo, ma cavolo, questo ha ragione, non ci sono cerni. Invece poi, pian piano, pian piano, mi sono accorto che questa zona faceva dei finti canaloni, delle finte spacche, diciamo, e dovevi per forza cercare quella giusta. Quelle finte erano tante, non spaccava mai, non spaccava mai. Alla fine sono riuscito a intravedere con la coda dell'occhio una cernia che stava in un cono d'ombra, era in caccia. E lì ho capito come cercarle. Questi pesci stanno fuori a mezzogiorno, più o meno. Stanno in candela, in digestione, è un orario dove il sole è molto a picco e loro hanno questa cosa di stare in candela, in digestione, oppure semplicemente a prendere il sole. Mi sono reso conto che proprio la cernia piace prendere il sole. Ok. E quindi, sfruttando questi grandi coni d'ombra, in questa zona, ho trovato tantissime tane e mi sono reso conto che la cernia non ha la tana stanziale, come dicono in tanti. Penso che lei abbia almeno tre tane. Una è molto fonda, che è la tana madre. Ok. Poi ha una tana transitoria e una tana di caccia. Poi, come tu ben sai, la cernia è abitualmente, quando tu ne togli una, dopo 15-20 giorni, si infila subito un'altra. Ok. Ecco, comunque da lì, sempre nelle vicinanze, non più lontano di 50 metri, trovavo sempre le corvine. Quando trovavo le corvine, intorno c'erano i dentici. Quindi questa cosa si accomunava e lì ho capito che queste tre specie hanno qualcosa in comune. E sei riuscito a capire che cosa hanno in comune? Probabilmente le cernie insieme alle corvine, le corvine si nutrono di piccoli franchietti, piccoli gamberetti. La cernia invece ho visto che si nasconde molto dove ci sono le cicale e le ragoste, quindi lei mangia prevalentemente ragoste, polpi, vabbè si sa. Ok, sì. Però, e quindi cosa succede? La cernia cacciando questi piccoli pesci, che sai bene che la cernia quando trovi delle grosse nuvole di saraghi fasciati, probabilmente anche lei è lì. Quindi tutto questo raggrupparsi di mangianza intorno comunque di pesci abbastanza importanti, anche pesci da mezzo chilo, 700 grammi, anche lì comunque i dentici sfruttano le stesse strategie della cernia. Ok, ok. Quindi è chiaro che c'è una correlazione di opportunità alimentare l'una subordinata all'altra che va a rendere tra virgolette la vita facile un po' a tutti e quindi andare a trovare questi contesti esponenzialmente ti fa trovare, ti fa avere più possibilità di prendere dei pesci. Sì, 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 non so se ti è mai capitato, scusami se ti interrompo, a me è capitato 3-4 volte pescando all'agguatto, non in bassissimo fondo, ma in 5-6 metri d'acqua, in inverno, incontrare un dentice a nuotare molto lentamente insieme alla murena e anche lì c'è una motivazione. La murena caccia il polpo e lui gli frotta il polpo. Ciao, vedi, queste cose, converrai con me però, che capitano a chi è che di mare ne mastica e ne vive tanto, perché stiamo parlando di situazioni molto particolari, anche solo lontanamente da vedere, è affascinantissimo. Tu hai un approccio molto naturale a questo, cioè tu, si parla poco di questa approccia alla pesca in effetti, una cosa che ho visto e che rivedevo e ora sto ripercependo nei documentari di Giorgio, era questo approccio così animale alla preda, cioè noi stiamo cacciando... Il conflitto primordiale, sì. Esatto, sì, cioè tu praticamente stai capendo il comportamento di quell'animale per anticiparlo fondamentalmente. Ok, wow, qua potremmo non finire più. Passiamo un attimo a te, prima di continuare con il discorso pesca, perché ho proprio la sensazione che da questa chiamata possiamo tirare fuori dei consigli tangibili che possono veramente fare la differenza per i pescatori. E di che cosa ti occupi nella vita? Allora, io nella vita faccio il servitore della patria, così si dice, sono un militare dell'esercito italiano. Ok. Come mestiere faccio il cuoco all'interno della caserma, quando diciamo così andiamo a fare delle missioni, dei campi. Ok, ok. Hai girato tanto o in... Missione, sì, abbastanza. Sono stato in otto teatri. Ok, cioè, quali sono stati? Cioè, ho fatto Libano, Cosovo, Macedonia. Minchia. Non sono stato in Iraq e in Afghanistan, comunque sono stati abbastanza tosti, perché come tu sai bene, in cucina... Cucinare per duemila persone sbucciamo 15-17 ore al giorno. Mamma mia, mamma mia. Che cosa ti hanno... ti ha lasciato questa... questa tipologia di esperienza? A parte il lavoro estenuante, com'era vivere in quei momenti? Beh, sicuramente stare lontano dai familiari per sei mesi non è semplice, però diciamo che, essendo comunque anche il mare un lupo solitario, non è stato quello il problema. Sicuramente è estenuante il lavoro. Ok. Poi, per il resto, lavorando in cucina, io non uscendo fuori, non avevo contatti all'esterno, quindi prevalentemente è quello il mio range. Direi quasi... direi che... anche meno male così, che comunque la guerra... lasciamo stare, diciamo, non si augura a nessuno, i terrori della guerra sono a tutti gli effetti dei traumi. È incredibile quello che sta accadendo per ora nel mondo, ed è così strano. Cioè, tu l'hai vissuta, ok? Io queste cose non le ho mai vissute. E sapere che a sei ore da casa mia, prendendo un aereo, stanno accadendo delle atrocità umane, ed è così vicino, parlando chiaramente come se fosse in Sicilia, per quello che sta succedendo con Israele e così via, fa veramente paura, e sottolinea quanto leggeri siano questi equilibri su cui viviamo, a tutti gli effetti. Speriamo sempre di non ritrovarci mai in nessuna di queste situazioni. Dove stai tu in Sardegna? Io sto in provincia di Sassari, mi trovo... il mio paesello è un paesello di 6.000 abitanti, si chiama Ossi. Ossi? Esatto. Il mare dista... dipende. Sono in una posizione abbastanza strategica. Prevalentemente io vado a Stintino, sono a 60 chilometri, 40 minuti. Ok. Ci è vicino Castelciardo, Isola Rosso, comunque bene o male ci spostiamo abbastanza. Io mi muovo abbastanza, d'inverno da terra, poi esco in gommone e in estetica. Ok, è il problema, non si pone. Ascolta, io suppongo che per arrivare al livello a cui tu sei, che è visibile sul canale YouTube tuo, invito veramente tutti ad andarla a guardare perché c'è soltanto da imparare. A parte l'esposizione che hai nella descrizione della scena, che è veramente da manuale, mi piacciono veramente molti i tuoi video. C'era un altro ragazzo che faceva pure video, molto molto belli, che poi credo sia sparito, non so che cosa è successo, che era... Sì, ho già capito di che pare. Sì, andiamo assieme a Pesca. Ah, vedi, ok. Purtroppo gli hanno tolto il canale, non so per che cosa, non ho capito bene. Ok, mi ricordo che anche lui aveva un modo di pescare molto forte ed è impressionante come con gli accorgimenti che vi conoscete riusciate a essere così costanti nelle catture, però alla base credo che, di nuovo, tempo in acqua ne spendi. Quanto durano le tue pescate normalmente e quante volte vai a pescare, Giuseppe? Giusto per farmi un'idea. Ma guarda, in questo periodo qua in Sardegna è almeno, non ti dico cazzate, tre mesi e mezzo che non si riesce ad andare a pescare. Ok. Venti dominanti, ponente, maestrale, quest'anno stanno distruggendo completamente le coste. Fondamentalmente comunque io riesco ad andare, il mio lavoro mi permette di avere abbastanza riposo e quando decido di andare riesco ad andare anche quattro volte alla settimana. Ecco, ecco. Le mie pescate durano, guarda, non ci crederai ma io quando vado a pesca sto anche sette, otto ore in acqua. Ah, vadi. Pescando l'agguato. Ok. La cosa difficile con tutte quelle ore è non perdere mai la concentrazione, che è quello che io dico quasi sempre nei miei video. Quando tu perdi la concentrazione dietro il masso, devi pensare oltre. Non vedo niente, penso che dietro quel masso c'è qualcosa. Il mio percorso mentale è sempre quello. È quasi sempre vincente. Ok, quindi tu visualizzi quello che vuoi cacciare o quello che ti aspetti che possa accadere e ti tieni pronto all'azione, praticamente. Esatto, sì. Quando parli di concentrazione, io la vedo fondamentalmente su due punti di vista. Uno è quello tecnico in termini di attrezzatura che ti deve dare quel comfort e quell'efficacia tale da tu non doverti preoccupare degli agenti esterni, quindi freddo, la piombatura perfetta. Ti devi trovare a tu oggi in acqua, che tu dirai vabbè è normale. Sì, però per chi comincia questi raggiamenti chiaramente non se li fa. E quindi sicuramente ci sarà una particolare attenzione nella pesata che deve essere al grammo. Ma invece a livello personale tu, oltre a questa visualizzazione, come percepisci l'ambiente esterno? Cioè come lo vivi? Quando tu entri in un posto, come ti ci cominci ad approcciare? Raccontami questo percorso che tu fai. Allora, c'è da promettere una cosa. Io personalmente, studiando comunque i venti più propensi alla determinata zona in cui vado a battere, ho preso tantissimi cappotti. Perché mi sono intestardito per dirti andare a Mare di Fuori, un posto che comunque frequentiamo in tanti del Sassarese. Se tu vai a Mare di Fuori con i venti da est, non prendi nulla. Ma mi ci sono intestardito andarci venti volte di fila, non prendi niente. Devi andare con i venti di Libeccio. Devi andare col maestrale che smonta. Mentre ad esempio può funzionare, i venti da est funzionano molto bene nella zona di Castel Sardo, Isola Rosse. Ok, ok. Quindi, azzerando questa cosa qua, poi sono riuscito a colpo sicuro ad andare in determinate zone e fare carniere. Poi certo, capita la giornata che non gira niente, però prevalentemente queste sono le accortezze che bisogna prendere. Anche, come dicevi tu, la pesata. Io avevo fatto un video, qualcuno mi ha criticato, invece la pesata è molto importante. perché soprattutto pescando in 50 centimetri e anche meno, quando tu fai la capovolta a definetto, non devi avere nessun sobbalzo, non devi toccare nulla. Questo, se tu hai visto qualche mio video col mare calmo, si amplifica la cosa. Sì, sì. Distrazione mentale che poi alla fine annoia, perché tu magari fai un percorso subacqueo e non vedi pesce. È normale che uno abbassa l'attenzione. Io riesco a non abbassarla, perché quando l'abbassi ti capita il pescione, e non lo prendi. Ok. Quindi questo è il consiglio che io do a tutti, più forti e meno forti, a prescindere che io sono del parere che in mare i forti non esistono. Perché? Perché in mare c'è sempre da imparare, da tutti, dai più forti e anche da quelli meno forti. Ok. Io purtroppo sono stato reduce qualche anno fa nel ritrovamento di un amico che è morto sott'acqua e mi chiamò uno dei suoi migliori amici a cercarlo, io ho un gommone importante, con una strumentazione importante, cercarlo con lo strumento. Invece poi mi sono messo a fare papero lungo con un amico che faceva barcaiolo e l'ho trovato morto dopo quattro giorni di ricerca dalla Capitaneria Forestale Vigili del Fuoco. Quindi è stata un po' una cosa e questo purtroppo era un ragazzo che tuffava fondo con lo schienalino, cosa sbagliatissima. Ok, perché è sbagliato? Perché comunque sia, sì, tu ti ventili. Diciamo che non ti ventili bene, però magari cadi a foglia morta. Sì. Non stai sganciando, una volta che sei sul fondo il piombo ce l'hai addosso e quindi la fatica si raddoppia. Sì. La tensione ce l'hai sempre, mascelle, gambe, tronco, perché se è legato ai piombi, hai lo schienalino. La cosa è sempre guardare la superficie, sei teso. Sì. I movimenti non sono come quando stai sganciando che hai la muta addosso e risali e il corpo è positivo e basta un niente e sei a galla lì. Sei sul filo del rasoio. Sì. È come giocare a una roulette russa alla fine. Ok. Quando, quando, quando l'hai visto mentre stavi spaperinando, che cosa cosa ti è venuta in mente? Non è stata una bella situazione perché non ho dormito per un mese, perché lui era, aveva il corpo rivolto verso l'alto, aveva la maschera in fronte, aveva un grosso ematoma nell'occhio e la cosa brutta è che aveva un dentice attaccato all'asta. Mamma mia. Quindi, poi purtroppo dall'autopsia si è saputo che lui aveva già un distacco della pleure ed è andato a pesca prendendosi tre tachipirine prima di entrare. Quindi alla fine se la cercano. Cos'era questo problema? Se la cercano. lui è stato male? Lui probabilmente aveva un inizio di polmonite già da prima. Non si è accorto, si è preso delle pastiglie per star bene, invece sono bastati due tuffi ed è morto. Mamma mia, mamma mia. E in quel momento quando hai visto quello che hai visto, cosa hai fatto? Sei sceso a prenderlo? Hai chiamato i soccorsi? No, 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 assolutamente. I soccorsi erano già tutti in acqua. Si stavano radunando per darlo disperso in mare. Io in quel momento l'ho trovato. Quindi ho urlato è qua, è qua. Mamma mia. Dopo quanto l'avete trovato da quando quella giornata avrebbe cominciato? Quattro giorni. Dopo quattro giorni. Quindi tu hai cercato? No, io non c'ero mai andato. No, io non c'ero mai andato. Io sono arrivato lì la mattina dopo due ore l'ho trovato. Mamma mia. Mamma mia. Che cosa ti viene in mente di dire rispetto all'accaduto? Se volessi sensibilizzare i giovani che si approcciano alla peschina penea. Ma guarda come ti ho detto poco anzi non esistono i campioni. Basti pensare Bruno De Silvestri era un grande campione eppure lui purtroppo è morto così. quindi bisogna fare attenzione. Quando si va a pesca non bisogna bere il giorno prima. Devi stare in ottima forma. Devi dormire bene. Il compagno sì il compagno ti salva ma anche no perché il compagno a galla va sempre in panico. È molto difficile che un compagno ti riesca a salvare. sì è vero. Questo è quello che penso. No no concordo perché vedi sono vedi discorsi che si fanno sempre. Cioè sì la pesca in due la pesca in due la pesca in due allora se hai un gombone ancora ancora così immedesimandomi un attimo la situazione tu sali prendi il cellulare puoi fare qualcosa nel panico più totale però oggettivamente se sei in mezzo al mare se sei lontano d'arriva non hai il mezzo d'appoggio e succede una cosa del genere che cazzo fai? cioè il tempo che torni è per cercare aiuto a meno che tu non abbia un telefono sulla boe sulla plancetta cioè le chances di risolvere sono oggettivamente poche meglio di niente però concordo concordo con quello che dici Alla fine col senno di poi possiamo pensare tante cose basta pensare che tu magari ti trovi in mezzo al mare col compagno di pesca tutte e due con la boe tutte e due con la boe uno ti sviene mettiamo caso che scendi giù lo prendi devi togliere i piombi lo porti a galla è svenuto lì il panico ti prende per forza al sopravvento e poi magari sei che ne so hai pinneggiato e sei a due miglia da terra magari c'è anche un po' di mare quello ancora che lo schiaffeggia non si è svegliato e secondo me il coccolone ti viene anche a te a gallo sì 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 beh questa è la questa è la realtà cioè si parla secondo me poco di queste cose si parla e secondo me la prevenzione sì cioè che prevenzione puoi fare puoi fare dei corsi di rianimazione però poi di nuovo sei in acqua e il contesto è difficile non avendo mezzi d'appoggio beh ragazzi state attenti che cosa che cos'altro possiamo dire cioè fate quello che fate non non fate quello che pensate di poter fare ecco a me spesso è capitato di per esempio quando usci in mare con è stata una delle esperienze più belle tra le poche che ho fatto con il campione italiano dell'anno scorso di pesca in appena con Giuseppe Gentilino mi sono messo a pescare a delle batimetriche che non erano mie e col senno di dopo riflettendoci ho sbagliato perché non si fa però preso dalla compagnia preso dalla sai stavo bene ero già da una settimana che andavo a mare e quant'altro mi sono lasciato trascinare però in una situazione che non era una mia zona di comfort e nonostante mi sia divertito però spesso ho percepito che non ero esattamente nella mia zona di sicurezza e questo credo sia l'errore che di cui stiamo parlando sottovalutiamo troppo questa tipologia di problemi dimmi una cosa l'ambiente l'ambiente pesca in Sardegna com'è? guarda l'ambiente pesca in Sardegna parlano dei cacciatori ma i pescatori sono veramente peggio ok tante tante gelosie tante gelosie io prima fino a 15 anni fa andavo in mare con qualcuno adesso vado sempre solo perché la gente non ha educazione perlomeno i giovani non hanno educazione in che senso e se io ti faccio vedere un posto ci puoi anche andare ma non ci andare con un altro si oppure magari gentilmente mi chiami e mi dici oh che ne pensi sto andando là ti dà fastidio no io sono io sono di quel parere quando è capitato che qualche amico mi ha fatto vedere un posto quello è stato l'unico momento che tu lo sei salvato perché non ci vado perché me l'hai fatto vedere tu perché io i posti me li so cercare e la penso così ok ok no 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 ci sta non è semplice perché hai questa visione del più che altro non è da tutti non è da tutti perché c'è una più che attavicità c'è una avidità in questo senso perché tu sei attavico quando dimostri di essere un predatore si se gli avirò quando io ti faccio una cosa e tu fondamentalmente me la vuoi rubare perché poi alla fine di farina del tuo sacco non c'è nulla e questo succede anche con le lenze perché io pesco anche faccio tutti i sistemi di pesca anche con la camma ok è vero è una definizione molto accurata quello del discorso di avidità così come la sensazione di possesso rispetto ad un posto mi verrebbe anche da dire certo sì dico di nuovo sono sensazioni e sentimenti umani naturali però non credi che e questo vada un attimo a forse un discorso un po' troppo ampio però vediamo dai affrontiamolo il discorso di tenere per sé le cose di non condividerle non credi che possa limitare la crescita del settore e dell'espansione del settore e questo è chiaro che uno può dire e a me che cazzo me ne fotte di fare espandere il settore perché sono abito rispetto a tutto e così via però rispetto a un sentimento in particolare che ho notato e ho molto apprezzato nell'ultimo peggio che ho fatto a Fertaventura parlando con il presidente della dell'associazione di pesca sub veganaria lui ha proprio la voglia di condividere così da fare sempre più numero quindi da aumentare le teste della categoria per avere sempre più peso politico e credo che quella sia un un punto smart su cui riflettere perché avendo più peso politico e quindi più tesserati e quindi più gente che fa questo sport la disciplina si può tutelare di più in Sardegna sembra che voi abbiate lo Stato e la politica sembra che vogliono generalizzando vogliono estendere tante aree marine vogliono fare tante aree marine non credi che essendo così gelosi noi togliamo la possibilità a tanti giovani di sputtare posti però anche di cominciare questo sport e continuare e crescere in questo sport ma guarda io fondamentalmente da istruttore di pesca e di apnea ti posso dire che non avrei nessun interesse neanche a fare questa videoconferenza perché ti dico le cose e uno non viene al corso non è così perché ricevo tante chiamate di gente che vuole venire a pescare con me e ce li porto volentieri anche senza fare corsi ultimamente ho fatto qualche stage ma comunque fondamentalmente il mio insegnamento per quello nel mio piccolo ripeto campioni in mare non c'è i campioni sono i garisti per me i pescatori sono un'altra cosa ok ok io ti porto in acqua prima di tutto capisco se sei portato per andare a mare perché capitano anche queste persone che sono appassionati io li chiamo fammi passare il termine sei gaiolo da mouse ok sì sì o sei gaiolo da tua fiera come li vuoi chiamare tu comunque mi rendo conto se sei portato o meno ti corrego la pinneggiata ti spiego che il peso è importante ti spiego che l'andatura è importante poi magari dopo viene il fucile prima c'è tutta la diciamo la logistica che ti porta a fare un'azione corretta poi magari viene il fucile ok quindi diciamo tendenzialmente tendenzialmente io sono uno che sono uno molto diretto ok o ti dico tutto o non ti dico niente vado un po' a pelle eh vabbè ci sta dici te lo devi tra virgolette meritare e ci sta no assolutamente guarda io apprezzo la tua presenza al podcast e lungi da me l'idea di criticare questo spirito di conservazione rispetto agli spot perché capisco pure che io penso un po' come come lui Gipuret ho sentito l'intervista sicuramente conoscendoci andremo d'accordo alla fine anche lui è una bella testa è una bella mentalità e dici porti porti la gente che lo merita ci sta parlavamo pure di questo e dopo tante delusioni e ci sta io ho uno spirito molto liberista da questo punto di vista forse perché ehm non lo so magari se un giorno dovessi diventare bravo e scoprire dei posti eccezionali che mi regalano delle emozioni uniche le vorrò anch'io tenere per me però a me piace molto dal punto di vista politico affrontare la situazione pesca e dico quante più informazioni ci sono in giro quanto più se ne parla quanto più gente pesca e si diverte quanto più possiamo proteggere la categoria perché potenzialmente riuscimmo ad acquisire potremmo riuscire ad acquisire un maggiore valore percepito nella società di oggi che è contro tutto questo che è contro la caccia che è contro la pesca e così via ti è mai capitato di vedere quei video di pescatori o di cacciatori ci arrivano gli animalisti e li fanno staccare sì sì ma guarda io fondamentalmente per come sono fatto io divento un cane con la rabbia quindi non so che fine farebbero sia in terra che in mare ti è mai capitato una cosa del genere magari a degli amici che conosci o suppongo di qua in Sardegna guarda qua in Sardegna sicuramente gli animalisti fanno pochi affari te lo posso garantire ci sta ci sta ti racconto una cosa qui su stavo scrollando su facebook un paio di settimane fa per questo ne sto parlando è praticamente c'è una pagina facebook un sito internet una fondazione che nasce contro i cacciatori della volpe ok qua in Inghilterra la caccia alla volpe è stata bandita non mi ricordo in che data ed era quella caccia che facevano quegli uomini vestiti di rosso con gli elmetti e la mandria di Beagle dietro al seguito cosa che però è ancora praticata c'è una specie di cavillo burocratico con la legge che gli consente in certe situazioni in certi contesti se la volpe è nociva insomma tutta una serie di cose di fare questa cosa non hai capito Giuseppe se ci vanno a mettere in mezzo gli vanno a fare scappare le volpi se ne vanno dentro gli animalisti vanno nelle tane a mettersi là tipo a schermarli perché praticamente è il cane che caccia la volpe non è che gli sparano e aspetta ci vanno 3, 4, 5, 6 persone tutti incappucciati con le telecamere a filmare quello che accade direttamente in faccia e poi pubblicano tutto online è particolare come cosa cioè secondo me non è giusto mi è capitato anche di vedere dei video in Italia di gente che sta pescando soprattutto nelle acque interne stoppati dagli animalisti e penserci bene a me una cosa mi è capitata stavo pescando a Mosca in town qua a Winchester che Lampshire è la regione dove nasce la pesca a Mosca per intenderci e quindi è molto sentita qua come passione stavo pescando in un in un fiumiciattolo che passa dalla città è un tipo di dubbia visione c'era qualcosa che non andava mi approccia accanto e mi comincia a dire in inglese ma se te lo metto io l'avo in bocca che ne pensi ma a confrontarmi a confrontarmi proprio come se volesse litigare al punto che io ho dovuto staccare ero con mio padre peraltro fu tipo il mi ricordo forse il primo mese che vengi qui in Inghilterra e ho detto ma che cazzo sta succedendo cioè ma guarda io io credo che sia una mentalità un po' con con torta ti spiego perché è un po' il paragone tra il vegano e quello che mangia la carne e il pesce no perché loro ti dicono è l'animale quella ok sì prima di tutto lo compri alla macelleria è già morto sta lì bello al fresco sì ok c'è tutto il prima va bene ma anche tu che ti mangi la bietola per dire la bietola è viva l'hai tagliata anche tu quindi questa cosa qua dell'amo in bocca quindi capisci che comunque c'è una contorsione mentale non indifferente secondo me da parte loro sì 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 così come l'avocado l'avocado è uno dei cibi preferiti dai vegani peccato che non sanno che per coltivare ed è ricco di proteine ed è ricco di proteine così come come così come la coltivazione degli avocado avviene attraverso uno sfruttamento delle api non indifferente è capito non lo consideriamo questo guarda è un è una battaglia persa io dico sempre siccome abbiamo in mente di aprire un un piccolo ristorantino un take away dobbiamo definire questa cosa dico sempre io gli scriverò tipo all'interno del muro vegani non ne vogliamo proprio in italiano perché è anche un cliente difficile con il quale lavorare torniamo torniamo nei nostri recinti allora tre mesi che non riesci ad andare a mare perché il vento non lo consente le situazioni complicate in Sardegna questo cosa significa quando tornerai a mare che condizioni ti aspetti di trovare come imposterai la tua pescata dopo questo periodo ma guarda in queste situazioni innanzitutto consiglio a tutti almeno di andare a correre oppure la cosa migliore quello che faccio io è andare in mountain bike perché è l'unico sport che simula la pinneggiata con l'attenzione di non fare più di un'ora perché poi perdi potenza perché le gambe si bruciano a lunga distanza hai fiato però le gambe non spingono quindi si accorsa la corsa anche un po' meno anche 40 minuti bastano diciamo che faccio un lavoro esplosivo dai ok ok e le condizioni dopo tre mesi che non pesco sicuramente sarà controllare le condizioni meteo e valutare un po' la zona perché comunque sia tre mesi che non vai sott'acqua sono tre mesi quindi non sai cosa è successo prima quindi ti posso tranquillamente dire che potrebbe essere come entrare la prima volta posso solo immaginare che in quel posto posso trovare quello e quell'altro ma in realtà contano i fatti ok quindi la mia cortezza comunque è sempre quella di andarci con i piedi di piombo perché ti ripeto campioni non esistono e il carniere bisogna farlo in termini di opportunità alimentare questo fatto che ci sono stati tre mesi di maltempo e di maruso come si dice da noi in Sicilia creerà sicuramente delle situazioni positive nei primi giorni di Bonaccia oppure no? non credo ok dipende dalle zone perché ti spiego io in questi in questo periodo di brutto tempo comunque sono riuscito a uscire a pesca con le canne ok non so se tu hai visto un post che ho messo ultimamente una storia che c'è una schermata quello con un grosso branco di dentici magari più avanti ti manderò degli screenshot ok di pesci e ti dirò cosa sono nel dettaglio e quindi ti spiego ho fatto delle zone dove mi è capitato di prendere parecchi dentici e calargli il calamaro vivo in testa e non mangiare e ti sto parlando di 20 giorni di maestrale ti fa la bonaccia di due giorni tu vai convinto che spacchi il mondo invece i pesci non mangiano voi vai a vedere io controllo molto la marea perché i pesci mangiano solitamente al culmine di marea solitamente al culmine del picco di bassa marea solitamente e in quel periodo in quella giornata del picco di bassa marea ok in quelle giornate mi sono trovato ad aspettare quell'ora e i pesci non mangiavano lo stesso quindi capisci bene che a volte fai delle considerazioni che a volte sono state vincenti e a volte poi vai magari al bagno ti guardi allo specchio e dice non è capito niente ok ok allora bene non c'è una ragazzi purtroppo segreti non ce ne sono non c'è una chiave di volta per tutto quello che sto notando è che sicuramente quanti più dati tu riesci ad acquisire quindi quanto più spesso tu vai a mare quanti più elementi hai a sufficienza per poi determinare il contesto della giornata quindi c'è soltanto andare a pescare andare a pescare e andare a pescare però avere anche quell'attitudine di assorbire questa tipologia di informazioni e non soltanto essere passivo quando parli per esempio di picco di bassa marea perché è propenso come momento per pescare perché il mare si tira tutta roba da mangiare non lo so da riva perché è così credo che sia di peso comunque da un un processo metabolico loro in quel determinato periodo iniziano a smuoversi per andare a caccia ok e perché proprio in quel momento c'è una cos'è che li spinge ad andare a caccia o a smuoversi per andare a caccia quando perché probabilmente probabilmente anche le loro prede si smuovono ok metabolicamente per andare a mangiare e di conseguenza loro fanno la stessa cosa ok e invece nell'alta marea nel picco di alta marea questo avviene anche nel picco di alta marea avviene ma per la mia esperienza personale avviene meno soprattutto quando c'è la luna piena che i pesci molte volte si alimentano di notte anche il dentice che è un è un predatore che di notte si mette il pigiama come dicono tutti non è poi così vero perché io sarò forse uno dei pochi scemi che ha provato ad andare a traina di notte e li ho presi anche di notte con la luna piena quindi si muovono ok 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 e quindi alimentandosi di notte non hanno la necessità di alimentarsi di giorno è stupida come affermazione non è stupida perché io ti posso garantire che molte volte anzi ti dirò anche l'ottanta per cento delle volte in inverno vado a pescare a luna di pomeriggio da luna al tramonto se vado all'alba non trovo quasi niente cosa che invece non succede in estate ok ok questa subordinazione alla luna piena significa che se non c'è la luna piena è più probabile che magari alle prime luci dell'alba tu possa trovare qualcosa che magari non si è alimentato di notte ma che sta aspettando le prime luci ma ma soltanto perché quel perché la motivazione è che comunque un sarago un esempio che si alimenta di notte con la luna piena di giorno sta intanto viceversa ok ok lo troviamo ok ok quindi sicuramente focalizzarci sulla sull'attenzione alimentare come questa viene influenzata dagli agenti esterni è sembra essere una giusta chiave di lettura per avere una presenza del pesce diciamo quanto più regolare possibile nelle nostre uscite ok questo sempre prendilo con le pinze perché comunque è una percezione mia che comunque ho toccato ho toccato con mano poi magari faccio un esempio intervisti Nicola Riolo e ti dice no quello è un coglione lascialo perdere no 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 ma guarda a me sai cosa piace pensare che io faccio una chiamata con te ne faccio al 300 e poi la gente si fa i loro schemi ok poi magari va a provare quello che ha detto Giuseppe magari quello che dice Nicola insomma è bello dare gli strumenti e poi la gente quello che vuole fare fa è quello che vuole pensare pensa però è molto interessante questo approccio così atavico alla preda e parlando proprio di questo che era una delle cose che più mi colpì di Giorgio da Piranda come hai conosciuto Giorgio tu? ma allora guarda Giorgio ha vissuto tantissimi anni in Sardegna non so se lo so e io comunque ero appassionato ho tutte le sue videocassette no? un giorno sai nella vecchia guida telefonica cercai il suo numero ok e lo chiamai lui in quel periodo che l'ho conosciuto lui sicuramente non me ne vorrà male perché è una bravissima persona abbiamo veramente tanta confidenza era un orso non voleva vedere nessuno e comunque mi sono avvicinato a lui grazie alla diciamo io costruisco i fucili subacquei fin da giovanissimo in legno e quindi ci siamo confrontati provavo i fucili mi li dava li testavo e da lì è nata una bella amicizia poi abbiamo deciso di andare a pesca insieme e un giorno mi disse senti mi sono accorto che hai una bella manoferma perché non mi fai da operatore non è stato tanto sai sei bravo è stato lui era colpito dalla mia manoferma con la telecamera e allora da lì è nata diciamo una collaborazione cosa cosa si è stato a conquistare la sua fiducia di te ma fondamentalmente io non sono uno sono abbastanza introverso come persona come vi descrivono un po' tutto anzi chi mi conosce come primo approccio così dici ma quello perché mi guarda male invece il mio modo di essere così però io sono uno che comunque non fa troppe domande quindi io sono precedente detto mi piacerebbe fare una pescata se ti va da lì inizia tutto comunque sì mi dava fiducia perché comunque aveva capito che non ero una scena ok e quindi alla fine siamo andati in Corsica andavamo due giornate in Corsica dormivamo in hotel poi pescavamo firmavamo rientravamo in Sardegna quanti anni avevi quando questo è accaduto allora fammi ci pensare io più o meno avevo 28 anni ok sì 28 anni ok ok interessante vedi cosa si prova a fare parte direttamente o indirettamente di un po' della storia della pesca subacquea che che Giorgio ha ha creato ma guarda fondamentalmente lui essendo un forte aspettista e agguattista sia in in bassofondo che comunque sia mi sono ritrovato a filmare in costante con lui anche a 35 metri quindi e ti garantisco che Giorgio ha veramente dei grossi polmoni eh essendo un ex istruttore di palla nuoto mi dava filo da torcere però alla fine da lui ho imparato molto in senso di selezione di etica ok noi quando andavamo in Corsica trovevamo degli spacchi che c'erano 40 corvine da 2 kg dentro ma lui prendeva un pesce e andava via e questo mi è rimasto impresso e io continuo a farlo tuttora magari mi capita di andare in posti dove anch'io non ne avrò 40 ma 20 ci sono e non le trovo perché un altro non si comporta come mi comporto io è oggigiorno che i pesci sono sempre meno è difficile trovare un pescatore subacqueo che ha etica sì io ad esempio le cernie se non raggiungono i 3 kg non le sparo male ok allora questo suppongo ci sia il denaro di mezzo ok cosa cosa si provava a vivere accanto e a lavorare accanto a una persona che di mare viveva cioè quali erano le sensazioni di Giorgio percepite dal tuo punto di vista quando Giorgio si doveva fare la giornata guarda io ti premo ti dico una cosa che non credo che ci siano segreti di nulla Giorgio ha comprato un appartamento a Porto Cervo negli anni 80 e lo pagò 9 milioni delle vecchie lire e da lì Porto Cervo Porto Cervo è caro è carissimo ok ma infatti lui ora quell'appartamento l'ha venduto e si è trasfitto in Canaria non so se lo sai lui passa l'inverno in Canaria l'estate ritorna in Sardegna ogni tanto ci sentiamo così però comunque è sempre operativo però lui è stato uno che comunque il lavoro della pesca non era una passione era estremamente una cosa di grande sacrificio perché lui alle 10 era a letto non beveva non fumava la mattina si alzava alle 4 andava a pescare all'alba faceva 4 ore di pesca e tornava negli anni 80 sicuramente i carnieri erano più generosi di adesso però lui era uno di quelli che in mare andava tutti i giorni tempo brutto tempo buono tutti i santi giorni comunque era un era un saluttista ed è un saluttista continua a essere un saluttista è uno che comunque ogni anno va e si fa i vari controlli esami del sangue un po' ecografie è uno molto metodico su questo e comunque la sua è stato uno stile di vita ok ok io sai mi medesimo nella mia più totale ignoranza rispetto all'ambiente penso penso un po' te che c'è gente c'era gente ci sarà gente che la mattina si alza il pescatore per antonomasia non sa se del pesce si ammaglierà nelle proprie reti così in maniera poetica ma ci deve campare e quindi si affida a questa sua esperienza a questo suo lavoro e lo trovo molto affascinante perché cazzo devi avere una fiducia in te stesso e una determinazione tale da e riuscire a fare quello che fai e non è da tutti ma io guarda ti confido che un periodo nel 2009 decidi decisi di mettermi in aspettativa per provare a campare dalla pesca subacqua no ah ok ok e quando è accaduto questo io quando magari capitavano questi tre mesi di maestrale per prendere il pesce sai che dovevo fare c'era un angolino che mi permetteva di fare un quarto d'ora di agguato entravo sparavo un pesce uscivo prendevo la macchina andavo da un'altra parte questo per dieci entrate di fila finché non riuscivo a fare il carniere per guadagnarmi la giornata quindi renditi conto e questo è un esempio che potresti potrei regalare anche a qualcuno che magari sai non che non ci pensa che però cavolo sono entrato lì non si può entrare voglio andare a casa devo andare a casa invece no tu prendi ti sposti fai un tuffo basta uno non è che ti devi ammazzare ti devi fare male in mezzo al mare mosso però magari sai io consiglio sempre anche molto prima di entrare di osservare il mare almeno per un quarto d'ora ok perché ci sono quei frangenti grossi che ti fregano e tu non riesci a uscire che magari ti arrivano dopo 5-6 minuti e questo è importante perché tu entri ma devi anche uscire quindi se io magari ok si posso entrare come si fa d'inverno sono già vestito prendo sono vestito da casa prendo mi butto in acqua poi magari dopo 10 minuti arriva il frangente quello che non ti fa uscire allora quindi ok ok vedi cazzo vedi io sono affascinato da queste cose dimmi una cosa parlando in termini pratici suppongo che poi hai capito che era un po' complicato e quindi hai continuato a lavorare normalmente cosa è che ti ha fatto decidere di non lavorare con la pesca subacquea allora innanzitutto il metto che non sempre riesce ad andare a pesca e poi comunque sia devi trovare veramente una compagna che ti sopporta perché il pescatore subacqueo deve andare a mare rientra la sera è stanco deve mangiare e deve dormire questa è la cruda realtà quel lavoro si fa secondo me si fa da scappoli ok se hai famiglia è meglio è meglio è meglio lasciar perdere non è congiugabile la donna ti concede la passione sì che vai tre volte a settimana quattro e cinque è ok è già è tanto io questo te lo dico perché il mio compare non so se lo conosci si chiama Sergio Oggiano è un fortissimo pescatore sì sì assolutamente e lui è un martello pneumatico tutti i giorni in mare tutti i giorni in mare comunque è una compagna che capisce il suo lavoro sì 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 però la vita in termini economici invece non se ne parla mai ma si sa com'è cioè è redditizio suppongo se tu sei bravo a pescare partiamo da quel preso no allora conviene se sei uno che va a mare tutti i giorni perché ci sono le giornate che puoi guadagnare cinquecento euro e poi se te ne stai quattro giorni a letto non hai concluso niente certo certo è chiaro guarda è una come ti posso dire è un lavoro durissimo duro duro penso che sia il lavoro più duro che esista al mondo non è solo piacere sembrerebbe così ma non è così perché comunque sia svegliarti la mattina all'alba col freddo che fa furi pensare che devi fare magari otto ore in acqua e che non prendi niente e poi torni a casa con la frustrazione magari di dire alla tua compagna oggi non ho preso niente eh vedi questo questo è interessante come punto di vista è avere la determinazione tu e della tua compagna di sopportare una nuova giornata ed un eventuale nuovo fallimento e poi magari al terzo quarto giorno riesci a completare quel tuo obiettivo che so settimanale certo che deve essere particolare infatti dico non sembrano esserci tante licenze di pesca in Italia o tanti pescatori professionisti e questo denoterà sicuramente una qua in Sardegna sono 120 ah di pescatori su pochi professionisti sì c'è stata la storia dei ricci che hanno chiuso qua in Sardegna per 2-3 anni adesso da quest'anno l'hanno riaperto anche se comunque loro potevano ugualmente prenderli però c'è stata una cioè sono stati detruppati non dico completamente ma quasi e comunque sia mio compare in inverno fa solo quello e quando solo ricci quando tu ti trovi in acqua a raccogliere i ricci per ore e ore che fai che cosa ne so mille tuffi a casa arrivi e hai la testa che ti scoppia a cui le devi anche lavorare devi andare a venderli ma per me è una vita da scappoli poi se trovi la compagnia che ti sopporta ben venga perché alla fine allora sì o è estremamente conveniente da un punto di vista economico è affidabile ma alla base ci deve essere l'esperienza del pescatore che ti deve garantire questo oppure ragazzi ci facciamo assumere dalle poste quando assumono naturalmente penserei a una cosa no magari sai fai un lavoro che un lavoro dove guadagni tanto lo faccio per dieci anni e poi faccio altro a mare non lo puoi fare perché non sai se domani pesca o no quindi chi decide di farlo per me è tanta ammirazione è da stimare è un lavoro faticosissimo e che comunque non hai aspettative ma perché pensa oltre cioè a pensare al carniere pensa anche cioè quando ti senti male che fai è una cosa oppure ti è venuto il covid un esempio hai un altro tipo di problema ti rompi un braccio ti tagli un dito devi essere una macchina da guerra è un orologio svizzero allo stesso tempo eh sì eh sì il ferro si deve abbattere quando è caldo secondo me in questa tipologia di lavoro però vedi è interessante come argomento io ho molta stima di tutti quelli che lo fanno legalmente e illegalmente anche se se questa scelta è fatta da mossa da sentimenti di sentimenti buoni va analizzato in una certa maniera a me invece stando sul cazzo quelli che dicono io vado a mare perché devo campare la famiglia non c'è lavoro no allora lì si crea secondo me una situazione un po' più complessa da analizzare perché se tu vuoi valutare altre possibilità di lavoro capisco che non sono tutte redditizie come magari lo può essere la pesca quando lo è però ti puoi uniformare alla legge puoi fare le cose sebbene se invece è uno sfruttamento soltanto della risorsa allora lì non lo so c'è da discuterne ecco però sicuramente sicuramente il mondo è bello perché è vario mettiamola mettiamola così in termini in termini mi senti si saranno scaricate le cuffie probabilmente no 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 si disconnettono ora ti sento bene ok ok e dico sicuramente è un argomento esteramente delicato da affrontare però ecco beh c'è poco da dire mettiamo così complimenti a chi ci campa la famiglia positivamente e negativamente parlando però dovrebbero anche essere messi in un contesto tale da essere agevolati in termini burocratici e fiscali per poterlo fare con regolarità e controllo ma poi a prescindere da quello visto che abbiamo toccato comunque il discorso della pesca a livello lavorativo comunque un pescatore subacqueo professionista bravo sicuramente andando a mare tutti i giorni come dico io ma capisce 700.000 cose in più di te e mi fanno sorridere quelle persone che provano a confrontarsi a mettersi alla pari ma ti faccio ti faccio proprio l'esempio di mio compare quello ha 55 anni pesca a sgancio 45 metri ha una forza che sembra un ventenne e c'è gente che si paragona ma stiamo scherzando quella è pura gelosia invidia eh sì è vero ma quando gli altri fanno meglio di te non ti piace nella stragrande maggioranza delle teste delle persone però vedi vediamo dove saranno quelle persone che si comparano a tuo compare quando avranno 55 anni e lì poi e lì poi vedremo però vedi è una cosa affascinantissima un appello Sergio io ti avevo scritto su Facebook mi piacerebbe averti ospite se dovessi guardare questa conversazione perché mi piacerebbe tantissimo parlare del di quello che c'è dietro a così tanto sacrificio perché di nuovo è più unico che è raro e Giuseppe se volessi non lo so vorrei chiudere con tre punti importanti per il pescatore in appena che comincia se volessi darmi tre spunti di riflessione per migliorare le mie pescate a mare tre cose su cui dovremmi concentrare cosa diresti che siano ma guarda allora la prima cosa ti ripeto è io parlo di un neofito sì la cosa importante prima di tutto quando stai entrando in una zona di pesca ora te la faccio vedere ma non c'entrava niente comunque questa è la pinna che utilizzo io molto corta ok dynamic tech della cetma composit questa mi permette di non urtare le rocce e allo stesso tempo è una pinna molto dinamica concepita per la spinta in superficie movimento da galla quindi quella la prima cosa sicuramente non è una vestizione brusca prima di entrare vedo certi buttano la maschera buttano le pinne tutto in a fucile plof sbagliatissimo il pesce può essere a 20 centimetri d'altra ok la seconda considerazione molto importante che io faccio quando appena metto la faccia in acqua è fermarmi e osservare il circondario per almeno 5-6 minuti fermo immobile ok e poi inizio poi parto e inizio a fare degli agguati che finiscono sempre con gli aspetti senza vedere il pesce la regola numero 1 per me è quella una volta che ti ha visto è difficilissimo catturarlo se il tuo approccio è sempre quello di fare un agguato strisciante sul fondo senza vedere pesce dietro l'angolo ci può essere il pesce della vita ok quindi non pescare a vista non pescare a vista quindi per me quello è molto importante ok un'altra considerazione che posso darti è quella di comunque di valutare sempre il vento vincente perché ogni zona di pesca ha il vento vincente per essa ok per vento vincente intendi quella condizione di vento che ti porta il pesce in quella determinata zona esatto ok e come facciamo ad identificare il vento vincente come ho fatto io capotti 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 8 ore al giorno 8 ore al giorno e la settimana no vabbè dai ci sono le zone che quando ti rendi conto 2-3 volte che con quel vento sei entrato lì e non c'è niente devi provarne un altro ok è molto importante questo non sottovalutarlo perlomeno io non l'ho sottovaluto mai è come quelli che pescano in corrente magari hanno hanno trovato il vento giusto e pescano in corrente e i pesci ti sentono da prima che tu arrivi aspetta aspetta ripeti ripeti questa cosa tu entri da destra verso sinistra ok e la corrente va da sinistra a destra quindi che cosa succede i pesci solitamente sono degli opportunisti pescano in corrente ok sempre per questioni metaboliche e sforzi muscolari minori vanno in corrente se tu vai controcorrente individui il loro senso di marcia ok chiaro se fai al contrario loro ti sentono loro no non ti sentono ma non li vedrai mai perché sono avanti a te seguono il verso il verso di marcia ok amica mi stai a prendere un mondo ok ok grande ok ma questo mi spiega tante cose porco Giuda ok ok quindi fammi ricapitolare per capire io mi devo mettere con la corrente che mi viene in faccia esatto così il pesce mi viene in faccia piuttosto che piuttosto che il sole alle spalle la regola numero uno di Giorgio che io non la condivido tantissimo preferisco quella che ti ho appena detto il sole alle spalle ci sta si ci sta è come però per me conta molto di più andare contro corrente non in corrente ok bag ed è qua chiudiamo il podcast fantastico fantastico grazie vedi questi sono quei consigli che io l'avevo percepita sta cosa perché spesso mi capitava con spesso mi è capitato con le spigole qua in Inghilterra che siccome ci sono questi fiumi di corrente letteralmente che muovono tonnellate tonnellate di acqua spesso mi capitava che i pesci mi arrivavano dei punti sbagliati oltre che anche una una non comodità nella pesca quando la corrente invece mi veniva a favore ecco mettiamola così mi distendevo a favore di corrente e già era difficile posizionarmi quando questa avveniva e in effetti non vedevo mai niente quest'anno ho cambiato un modo di di appostarmi ok ok interessante nel momento in cui un'altra dimmi 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 vai devo fare una considerazione adesso che abbiamo toccato questa cosa della corrente ho visto sempre più pubblicizzare poi avevo fatto un video ma perché comunque è la verità mimetismi estremi alghe che si muovono in testa bardamenti l'organo sensoriale dei pesci tu emetti una vibrazione in kilohertz di fersi con il cuore o con i movimenti il pesce ti sente ma il pesce è miop inutile mimetizzarsi all'estremo anch'io la muta la uso mimetica ma ho fatto delle pescate anche con la muta nera quindi alla fine ho capito che comunque sia uno scorfano si mimetizza alla perfezione per mangiarsi un pescetto come può fare un polpo per avvintiare una donzella o quant'altro ma comunque noi siamo degli esseri umani emettiamo dei suoni quasi sempre per quanto tu possa essere coperto da una roccia emetti sempre una vibrazione il pesce si ti viene addosso perché magari hai fatto le cose giuste non hai toccato una roccia non hai toccato una roccia con la pinna non hai battuto col calcio del fucile ma non sicuramente perché hai le alghi in testa ok ok questo è un altro spunto di discussione fateci sapere che cosa ne hai pensato in merito a questo Picciotti c'è questa cultura del mimetismo questo trend del mimetismo estremo che è affascinante per certi punti di vista io ho sempre pensato proprio quello estremo estremo di tutti i fronzoli e quant'altro che magari i pesci si possano incuriosire perché cos'è la cosa più simile a questo oggetto non identificato un polpo e lì ho pensato che i pesciolini si incuriosiscono con il polpo però parliamo di analisi infondate fondamentalmente però assolutamente è vero ma basti pensare quando il mimetismo non c'era cioè quella che conta è la velocità non aggressiva più lento 6 e più le catture si moltiplicano è difficile farlo perché comunque ci vuole un buon allenamento una apnea mostruosa ma non è impossibile ok oh Giuseppe grazie per la tua disponibilità grazie per il tuo tempo è stato fantastico averti ospite e grazie per grazie per i consigli veramente io spero quest'anno di riuscire a mettere quanto più in pratica possibile e ti farò sapere se funzioneranno queste cose grazie e buona ti ringrazio che ha carattere molto piacevole un abbraccio allora buona continuazione grazie a tutti grazie a tutti